ciao a tutti i ragazzi e ragazze bentornati sul canale di jored prima di proseguire con il video vi invito se vi va di mettere like al video e iscrivervi al canale per avere altri aggiornamenti iniziamo oggi andrà in onda una nuova puntata del grande fratello puntata attesissima perché verrà chiuso quest'ultimo televoto in atto 4 i concorrenti in lista che rischiano di abbandonare la casa più spiata d'italia sergio anita greta e simona ma quello che si prospetta stasera è ancora più interessante infatti secondo ultime indiscrezioni verrà aperto un nuovo televoto flash dove dobbiamo scegliere il terzo finalista ma sarà un televoto ancora più duro da sopportare degli altri perché non solo ci sarà un vincitore ma il meno salvato di questo televoto flash dovrà abbandonare subito la casa più spiata d'italia ancora più interessante e l'apertura di un altro televoto flash o molto probabile un altro televoto con eliminazione che verrà chiuso giovedì giovedì che sarà la semifinale infatti per chi segue attentamente il grande fratello sicuramente saprà che mancano solo due dirette con quella di stasera e poi ci sarà la finalissima e finalmente scopriremo chi verrà eletto come vincitore di questa edizione ma torniamo a quest'ultimo televoto in atto e vediamo se sono cambiate i sondaggi e quindi il possibile eliminato e voi chi state votando scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento ho concluso questo piccolo video news un grosso abbraccio alla prossima news